Come trovi l'Italia? E' bellissimo. Cosa ti piace di più? Perché c'è tanto divertimento e mi piace come giocano qua il calcio. Sono loro i nuovi bergamaschi, protagonisti della Coppa della Cittadinanza, il torneo di calcio rivolto ai figli degli immigrati residenti nella nostra città. Un'iniziativa ideata dalla CISL e inglobata per la prima volta in Bergamondo. Abbiamo voluto, assieme con la CISL e l'Eco di Bergamo, proprio per dimostrare quello che fa lo sport per l'integrazione. E credo che le società sportive e il CSI che oggi hanno partecipato a questa finale, alla Coppa della Cittadinanza, ma anche naturalmente tutte le altre che si impegnano sul territorio per questo, abbiano dimostrato e l'abbiano messo in mostra oggi che l'integrazione passa da lì. Il tema della cittadinanza per le seconde generazioni, per chi ha già fatto un percorso di scolarità, di familiare nella nostra terra bergamasca, bisogna affrontarlo in termini di una maggiore apertura verso questo tema della cittadinanza. La Coppa della Cittadinanza ha visto coinvolte quattro squadre. Ad aggiudicarsi il torneo è stato l'Oratorio Verdellino, che ha sconfitto in finale la GM di Ponte San Pietro. Hanno fatto una gran partita, penso che il risultato non fa una grinza, siamo contenti così, dai! Diamo l'opportunità a tutti, diciamo, che è una cosa secondo noi molto importante. Loro sono contenti, hanno fatto gruppo, sono in squadra con noi tranquillamente.